3, 2, 1. Per una buona comunicazione pubblica, sociale ed impresa servono conoscenze le più ampie, allargate, multidisciplinari possibili e servono competenze che è possibile cominciare a determinare già in ambito universitario grazie ad una proficua collaborazione fra professori solidi dal punto di vista teorico e professionisti della comunicazione. Il corso di laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica, sociale ed impresa arricchisce l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro con nuove convenzioni e laboratori di carattere professionalizzante. I ragazzi che arriveranno qui al Comune di Bari la prima cosa che potranno fare è rendersi conto che lavorare in una pubblica amministrazione può significare davvero lavorare per cambiare la vita dei cittadini. La convenzione stipulata con l'Università di Bari prevede la realizzazione di due progetti. Il primo progetto riguarda la catalogazione di una biblioteca con la realizzazione di un circolo di vettura. Il secondo progetto invece mira una cosa più specifica, raccontare la storia di Radio Bari. Quindi, tutti quelli che sono le nozioni che uno ha acquisito dal punto di vista teorico dell'Università, qui debbono essere messi in pratica. Prova Media è un gruppo da 450 dipendenti e 2.500 collaboratori sull'intero territorio nazionale. È sempre stata molto attenta alla costruzione delle proprie risorse, costruendosi continuamente un vivaio. Un vivaio che viene alimentato dal mercato territoriale a maggior ragione, gradito, se alimentato dall'Università di Bari. Mi sono onoreato dieci anni fa all'Università di Bari in Psicologia e della Comunicazione. Ora sono socio di Proforma, un'agenzia di comunicazione di questa città. È la mia storia personale la prova che si può lavorare in comunicazione e studiare bene senza per forza emigrare. Io ci credo, credo nel Sud, credo nella figura professionale che si possa formare qui al Sud perché abbiamo ottimi professionisti nel campo e un domani quei professionisti potremo essere sicuramente noi.